Giornata dedicata allo sport, la dello scorso sabato 15 novembre nel palazzetto di Sulmona, che ha ospitato il primo campionato interregionale di kickboxing specialità Kicklight. L'evento, organizzato dalla ASD Kickboxing di Nino Team, con il patrocinio del comune di Sulmona, ha riscosso notevole successo raccogliendo numerosi atleti dalle Marche e dall'Abruzzo. Ottimi sono stati i risultati della sulmonese ASD di Nino Team, che ha portato a casa molti primi e secondi posti in tutte e tre le categorie. Nella sezione cadetti a conquistare un primo posto sono stati gli atleti Alfredo Angelone e Marco Grossi, secondo posto per Matteo Marrese, Elena Grossi, Samuele Federico, Simone Di Bacco e Antonio Cianchetta. Nella categoria Juniores, primo posto per Luigi Marrese, secondo posto per Federica Presutti e Alessia Lombardi, terzo posto per Paolo Posillico. Nella categoria Signores, primo posto per Danny Primavera e terzo posto per Vittorio Mariotti, Lorenzo Morsella, Mario Capotosti. Siamo stati tutti orgogliosi di presentare questo evento, che è la prima competizione per la qualificazione interregionali e Coppa Italia. La Denino Team sta crescendo anno per anno con questi ragazzi che continuano a portare medaglie d'argento, medaglie d'oro, qualche titolo come negli anni passati. Io sono orgoglioso di continuare a rappresentare questa associazione che comunque ho costruito, ho portato avanti negli anni e oggi, oltre a me, posso mandare la presenza di alcuni istruttori che collaborano a questo sport con degli esiti positivi per quanto riguarda l'agonismo. Questo è uno sport che si è insediato qui in questa città nel lontano 96 e ad oggi vendiamo dei grossi titoli, titoli che rappresentano un accrescimento sportivo di notevole importanza, tenendo conto che ci sono regioni che ancora oggi portano dei titoli italiani. Noi l'abbiamo conquistato già qualche anno fa, un titolo italiano della Low Kick, sarebbe un contatto pieno sul ring e diversi titoli su tatami, cioè un contatto leggero tipo quello che si è presentato qui a Solmona. In futuro le nostre intenzioni sono quelle di portare qualche evento che si svolgerà direttamente sul ring come in altre realtà, con la speranza che sia la città che l'affluenza della gente gradisca un evento di questa portata. Presenti alla manifestazione il vicepresidente della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai e Savate, Riccardo Bergamini, il direttore tecnico nazionale Fabrizio Bergamini ed il presidente del comitato abruzzo kickboxing Diana D'Amico. La Dinino Team è una realtà sulmonese molto attiva nel territorio che regala sempre grandi emozioni agli spettatori e che porta avanti con passione uno sport che è tanto ad insegnare ad adulti e bambini.